Siamo con Enrico Pienzi, siamo a Loano, International Fight Show, ci sarà un torneo e tu sei uno dei atleti del torneo. Allora, parliamo di questa serata, di te, della tua forma e dei tuoi avversari. Sì, stasera affronterò Marco Re, in precedenza ha combattuto contro Tergui che è l'ultimo che ho affrontato a Firenze. Io sono riuscito a batterlo sulla distanza delle cinque riprese, credo che comunque Marco Re sia un avversario duro, più per il fatto che usa bene le ginocchia e i frontali, cercherò appunto di mettere a segno i miei colpi di braccia. Senti, questa è una serata eccezionale, sono i migliori fighter italiani e come sempre a Loano attira i migliori fighter. Cosa ne pensi di essere qui questa sera? Sì, è veramente una bella serata, organizzata bene, è un bel galà e voglio mettermi in mostra per dimostrare appunto di essere nei 70 kg tra i primi. Senti, quest'anno cosa dici? Magari a 8 non ci arriviamo? Quest'anno è il mio obiettivo, arrivare a 8. Vogliamo di vincere anche stasera e arrivarsi il prima possibile. Adesso è ora di prepararsi, di entrare negli spogliatoi e raggiungere la contestazione giusta prima dell'inizio del match. Un bocca al lupo Enrico e ci vediamo dopo. Grazie, grazie.